Ciao a tutti, buona domenica, e allora sto facendo questo video perché vi devo presentare tre cosine piccole 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 piccole, eccoli qui, allora questi sono i figlioletti della mia piccola Lily, sono carinesimi, io me li bacio a tutti, ancora non hanno apporto gli occhi, allora ve li presento, questo è Fiocco, Fiocco saluta, ha ancora gli occhietti chiusi, è piccolo, sono nati il 30 ottobre, Fiocco amore, poi abbiamo Spillo che ha una macchiettina bianca qua sotto, molto carino, piccolino piccolino piccolino, metti la Fiocco basta, e poi c'è Cicco, che ha una macchietta un po' più bianca qua sotto, ed è il più piccolino, mentre il bianco è il più grandetto, però sono un sacco carini, guarda, ma sono così temi, io li vorrei tenere tutti, mamma, allora, guardate, guardate, ci sono gli amici di Youtube, guarda, ciao piccoli, non è che si vedono benissimo, però, allora, ecco, Lily reclama i suoi figlioletti, vieni Lily, vieni, vieni Lily, su, ecco, ecco, guai, guai, levo le sue figlie, dai, scendi che te li riporto di là, è un momento che ridiamo i figlioletti, ecco, è come di ritorno, riportate i cuccioletti alla mamma perché dovevano mangiare il latte, volevo farvi vedere il mio nuovo taglio di capelli, freschi, freschi, fatti due giorni fa, mi piacciono, eh, dovevo tagliare, dovevo tagliare, li avevo troppo lunghi, erano rovinate le punte, dai, però ricrescono, carini, vero, questa parte più lunga, dai, almeno un pezzo lo lasciate più lunghi, ok, va bene, dai, ora vi saluto e credo che stasera farò un breve tutorial, oh, telefono, ciao!